Conviene sempre prendere la materia prima intera, tipo questa ricciola meravigliosa. Via le pinne, andiamo ad incidere con la squiamiam. Incisione, qui, tutta la schiena. La punta del coltello è il nostro occhio. Primo filetto. E abbiamo anche il secondo. Per sfilettare alla perfezione, che è un'arte, bisogna farne, 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 farne. Questa è oro. Ci fate un fumetto che è la fine del mondo. Ma con i filetti non abbiamo finito. Le lischie fanno dannare. Se non riuscite a toglierla, la muovete un po' con il dito. Pedricamente. E se vogliamo togliere la pelle, qui dobbiamo essere decisi tutto in un colpo. Quasi. Ci devo ancora un po' lavorare. Ho anche recuperato la ventresca, che è una bomba. Quello che rimane, facciamo un bel brodo. Abbiamo usato praticamente tutto. Molto da migliorare, però qualcosa inizia a funzionare.